esiste un'immensa intelligenza in te oltre la tua mente razionale vi è uno spazio di amore consapevolezza creatività e potenza la presenza fa sì che tu possa accordarti con questa tua sorgente di intelligenza e in quell'oltre puoi ritrovare l'osservatore che ti permette di trasformare ogni istante e così in questa meditazione guidata puoi coltivare uno stato nel qui e ora che ti permette di sentire profondamente la potenza che sei e andare oltre e dunque trascendere i processi razionali mettiti in una posizione seduta una posizione confortevole per te lontano dal cellulare se sei a casa puoi accendere un incenso e una musica soave chiudi i tuoi occhi e immagina di entrare in una bella stanza vuota è una stanza di purificazione per questo lascia al di fuori le tue vecchie scarpe che sono i tuoi pensieri e i tuoi condizionamenti e così puoi entrare in quella stanza completamente vuoto in qualsiasi momento potrai tornare a riprenderli se lo vorrai ma ora ti permetti questa esperienza inizia a respirare ed espirare lentamente senza sforzo ogni ciclo di inspirazione ed espirazione fa sì che possa durare circa sei secondi ma senza un particolare controllo inspira attraverso il naso e butta fuori l'aria attraverso la bocca lascia fluire il respiro senza sforzo dentro e fuori dal tuo corpo mentre inspiri ed espiri senti che la tua pancia si gonfia e si sgonfia come un palloncino appoggia la tua mano sinistra sull'ombelico ascolta profondamente il calore il tatto della mano in questo tuo centro vitale e contemporaneamente senti come il respiro muove il tuo ventre come un'onda in una danza armonica senti le note della musica esterna e così queste note accadono e tu porti attenzione simultanea a tutto questo le note musicali la mano calda la pancia che si gonfia e si sgonfia il respiro e ora immagina di immergerti dentro al tuo corpo se senti qualche parte in cui vi è ancora qualche tensione porta l'attenzione il respiro proprio lì è come dire sono qui per te offri pace a quel punto respiraci immagina di sussurrare sono qui per te ora e senti come il respiro porta armonia e dissoluzione graduale a quella tensione mentre tu testimoni tutto questo senza alcuna identificazione permette ti di renderti vuoto e libero pronuncia mentalmente abito il mio corpo qui ora abito il mio corpo e ora senti immagina che dal tuo cuore vi sia un diamante di luce incastonato un punto luminosissimo cristallino del quale si propagano cerchi concentrici luminosi in tutta la tua forma tutto il tuo corpo ne viene irradiato e questi cerchi luminosi continuano ad espandersi oltre il tuo corpo fondendosi con la luce dell'intero universo e sei assorbito completamente sciolto in questo oceano luminoso pronuncia mentalmente sono qui ora una cosa sola con l'universo io nell'universo l'universo in me ascolta la potenza del silenzio serenamente assorbito da questo immergerti nella luce nell'amore nella grandezza dell'universo se accade qualche pensiero permettiti che possa accadere so che ci sei ma non mi seduci più e continuo a riportare l'attenzione alla presenza a immergerti in quella luce rimani tranquillo a respirare la luce e la potenza di questo stato di immanenza di stabilità e di potenza rimani assorbito e assorbito l'universo in te e tu nell'universo qui ora una cosa sola il tuo adesso è lo spazio di luce che sei rimani tranquillo per qualche minuto e quando vorrai quando sarai pronto muovi lentamente le mani e i piedi per riprendere contatto con il corpo la tua forma e poi lentamente molto lentamente fa sì che il silenzio e la luce spalanchino le tue palpebre al cui ora testimoniando la tua realtà dell'adesso nelle forme e nei colori che si palesano a te buona presenza che face le tue palpebre al wielu